Il mio intervento oggi è quindi connotato da un esame dal punto di vista tributario di quelli che sono i benefici che la legge accorda a coloro che effettuano interventi sia di riqualificazione energetica degli edifici sia abitativi che produttivi e anche questo abbinando a questa tipologia di benefici che quindi si preoccupa dall'aspetto energetico e quindi di ridurre i consumi di energia affiancato nei tempi più recenti ad un rafforzamento di quello che è la stessa normativa fiscale prevede per gli interventi antisismici. Già dalla legge di bilancio del 2017 era stato introdotto un rafforzamento di questi benefici, oggi insomma esamineremo un po' più nel dettaglio quali sono i contorni di questa normativa e quindi cercheremo un po' di fornire qualche elemento di riflessione anche alle imprese che sono presenti.